Piano Rionedesi Piano Rionedesi Quando i cavalli sono al passaggio agli 800 di gara Passati sul ritmo dei 57 per i primi 800 Le posizioni non possono cambiare Al comando sempre Niemeyer Davanti al numero 1 di Nashira Poi Our Dream ha spostato Pino PF L'anticipo su Rionedesi Il primo chilometro è velocissimo 1-12-8 E Naimfert-Wise continua a costruire generosamente Adesso c'è la mossa del favorito Rionedesi che cerca di dare il parziale lungo Come ha fatto l'ultima volta Nel frattempo Naimfert-Wise ha raggiunto I Meier-CR Sta passando All'esterno c'è il numero 6 di Rionedesi Ha spostato anche Nashira I cavalli sono tutti lì a lottare Il migliore sembra all'esterno sempre Rionedesi Mentre al comando adesso è passato Rionedesi Rionedesi che sta passando da favorito Rionedesi con Marco Di Caterino Mentre Naimfert-Wise alla grande Ancora resiste ma è travolto all'esterno Con il numero 10 di Nino Learn Per il secondo posto Vittoria da cavallo favorito per Rionedesi E Marco Di Caterino Che vince una bella corsa Con un Rionedesi Eh sì, 6-10-2 L'ultima volta di essere al meglio 6 al primo 10 al secondo 2 al terzo Per la settima del San Paolo Per la settima del San Paolo